io ci sono e spero anche voi oggi è venerdì ogni venerdì novità incredibili ragazzi sul nostro sito abbiamo caricato delle 112 dei kit build pazzeschi davvero pazzeschi vi consiglio di andarli a vedere oggi non ne parleremo però prepareremo vi prometto un video dedicato mi piacerebbe parlare della storia anno per anno di ogni kit della realizzazione del brand di produzione dell'auto che rappresenta dell'anno dell'epoca e anche del pilota che raffigura quindi dedicheremo assolutamente un video a questi kit oggi ragazzi ci sono arrivate delle novità bellissime partiamo fortissimo 143 143 entriamo nel mondo formula 1 subito veramente nel vivo 2023 ed eccole qua mercedes sapete che questa colorazione a me piace davvero tantissimo versione bahrain 2023 lewis hamilton tiratura numerata che lo possiamo vedere qua 576 esemplari e la versione george russell qui abbiamo due lewis hamilton però comunque abbiamo anche già la versione di george russell che la troviamo direttamente qua con i dettagli in colorazione verde anche il suo casco davvero molto molto bello numero 63 poi che abbiamo qua abbiamo il team williams con alexander albon 2023 tiratura numerata anche questa chiaramente e logan sergeant 2023 con una trovata a livello di marketing che è favolosa duracell sopra la presa d'aria è una roba incredibile davvero bellissima poi continuiamo e proseguiamo stagione 2023 qui chi ritroviamo sono gli stessi ma è un numero 22 ed è un certo pilota giapponese campione del mondo anche di formula 2 e in formula 1 fa sempre sorridere perché sembra tanto buono e carino poi quando mette il casco diventa davvero aggressivo yuki sunoda ma proseguiamo perché perché ci sono arrivate delle favolose mic schumacher belgian gp 2021 anche questa tiratura numerata della ass a steam quando aveva anche la la bandiera russa 1 e 43 e qua abbiamo la versione invece jordan ford 191 come non dimenticarsi questa auto guidata dal padre michael schumacher la riguida anche il figlio questa è una tiratura numerata i soli 504 esemplari bellissima demoran silverstone molto interessante e poi mini champs 1 43 altre due versioni di porsche davvero favolose porsche 9 1 1 992 gt 3 rs questo non ha bisogno penso di tante descrizioni tiratura numerata 500 esemplari scusatemi 640 la versione del nurburgring nosh life e qua abbiamo una versione colorazione puffo tiratura numerata e 500 esemplari da incredibile bellissima porsche di 3 rs si va sul sicuro non si sbaglia assolutamente perché qua vi tiro fuori invece quello che ha fondato la scuderia ferrari e la ferrari enzo ferrari in miniatura 1 18 per i vostri modellini li mettete lo mettete vicino al vostro modello ed è davvero favoloso soprattutto un modello vintage dove dell'epoca di del grande enzo ecco questo molto interessante della kk per una parentesi e qua abbiamo altro 1 18 del mondo mini champs quindi rimaniamo in tema stradali con una favolosa e cattivissima mercedes mg gt black series 2020 questa è veramente un'astronave cattivissima opaco blu opaco cerchi neri dettagli favolosi è davvero micidiale poi lancia stratos hf anche questa bellissima 1 18 vero meravigliosa e qui sotto che cosa ci ritroviamo ci ritroviamo una tiratura limitata di soli 240 esemplari abbiamo un glorioso max westappen neanche dirlo campione del mondo e vittoria australian gp direi strano nel 2023 dato che stava per vincerle tutte se non ci fosse stato carlos sainz questo è un 1 18 della mini champs di cast molto molto interessante ma qua guardiamo dopo qua guardiamo dopo 1 18 premium la versione in resina perché molti di voi ci chiedono che differenza c'è tra la versione in cartonato e plastica 1 18 mini champs prezzo di listino 169 90 mentre la versione da 199 e 90 1 18 con la base asfalto effetto asfalto sono tirature numerate anche queste cambia la produzione cioè viene realizzato in metal di cast l'1 18 con la scatola cartonata e plastica mentre queste vengono realizzate in resina diciamo una lavorazione diversa di davvero tanta qualità molto 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 bella 1 18 stupenda guardate qua terzo posto saudi arabian gp 270 esemplari per me è bellissima questa formula 1 per me lui è un grande pilota fernando alonso con la sua aston martin e questa è tanta tanta roba mi piace davvero tanto dettaglio non da poco italia 00 perché in arabia non si può utilizzare nei paesi arabi non si può utilizzare i loghi dell'alcol qua invece abbiamo moneygram house team vf 23 abbiamo nico ulkenberg e abbiamo kevin magnusen vi ho fatto vedere kevin magnusen ma abbiamo il suo compagno di squadra nico ulkenberg che diciamo che all'inizio questo team sembrava esplodere perché i due soggettini proprio non è che si amino tantissimo però questi due modellini davvero stupendi dell'ass che tra l'altro è motorizzata ferrari proseguiamo 1 e 18 qua ragazzi siamo al trentesimo anniversario purtroppo dalla sua scomparsa ayrton senna e questa è una versione molto interessante 1 18 con la williams 1994 qui abbiamo segnalato il gran premio che proprio purtroppo quello di san marino diciamo un modello un po che ricorda un periodo triste ma che ricorda un grande grandissimo ed enorme campione ayrton senna proseguiamo con gli arrivi kk 118 ce ne sono di tutti i colori tutte ferrari ma anche qualche porsche direi di non descrivere tutte ve le potete scoprire tutte sono meravigliose f40 288 250 gt spider california 50 365 gt4 la gts la 328 la 250 gt lusso la 166 mm winner spa insomma la daytona ragazzi la 365 gts4 auto leggendarie che hanno fatto la storia del mondo ferrari vintage perché kk produce in 118 di cast non apribile con le ruote però che si muovono la qualità prezzo davvero ottima perché di listino escono fuori a 79 95 quindi un 118 davvero molto molto interessante e queste ve le linko qua sotto direttamente nella descrizione potete già trovarle adesso mancano alcune sul sito che pubblicheremo a brevissimo qua abbiamo anche la porsche 9 17 winner le man del 71 questa ragazza è una livella martini stupenda con un'auto a passo lungo davvero impressionante bellissima ma ci ricatapultiamo su almost real 1 e 18 sono come le auto vere come quando le ritiri dal concessionario qui noi le andiamo ad aprire pagani zonda 5 coupe 2009 adesso io piano piano la vado ad aprire ciao ragazzi ciao belli proprio favolosa versione orange e versione green completamente apribili con il la custodia almost real favolosa sopra il modellino è veramente bellissimo sono apribili in metallo hanno una qualità pazzesca è davvero assurdo il dettaglio e la cura questi ragazzi su una base della lux box che vi linkiamo anche questa qui sotto stanno d'incanto si apre chiaramente il davanti si aprono le portiere si apre il vano motore è uno splendore ci sono dei dettagli unici unici io adesso non la voglio toccare troppo con le dita però questo è davvero un capolavoro allucinante pagani zonda 5 tra l'altro se siete nelle zone di maranello volete venire a maranello san cesare sul panaro è a circa 25 chilometri da qua quindi la scappatina la pagani ci sta proprio c'è un museo davvero anche molto bello qua auto art due versioni 911 gt2 rs verde lime avocado non lo so 118 completamente apribile auto art chiediamo anche la portierina bellissima bellissima questo è un modello favoloso più di 700 cavalli un missile di fianco una r34 nissan guida destra giapponese spaziale ragazzi spaziale questa è una macchina che è eterna è sempre cattiva è sempre bella è sempre meravigliosamente stupenda 118 auto art tutte completamente apribili qua invece abbiamo un brand francese otmobile con la sua scatola bianca molto basic e semplice abbiamo un alfa romeo sud sprint 118 colorazione verde con il fanale in giallito bellissima ragazzi questa otmobile produce tutte in tiratura limitata di circa 500 o 1000 esemplari dipende la tipologia di modello ma sono modelli davvero ben realizzate di ottima vettura di ottima qualità con le ruote che si muovono e modello non apribile poi qua sapete la mia passione per questo mondo molti magari ancora non si sono avvicinati o molti ancora un po ammetto che la possano anche criticare però a mio avviso sono davvero molto belle è un mercato nuovo è una scala nuova nuova nel senso in europa in europa tanti brand si stanno affacciando a questo mondo adesso anche bbr adesso mini gt adesso è uscita anche una pop race che è un'altra versione 164 sono davvero stupende quella ad esempio questa questa porsche gtr è davvero bellissima ragazzi sono 1 e 64 guardate la tarmac che insieme alla x o producono delle mercedes formulo 1 v 12 questo è il centesimo centesima vittoria di luis emilton insomma delle versioni stupende in scala 164 anche con la teca il certificato di autenticità qui c'è davvero di tutto io vi faccio una carrellata perché qua c'è davvero tanta tanta roba kaido house guardate anche questa una nissan in collaborazione con mini gt questa davvero è clamorosa nissan skyline gtr r33 kaido works ragazzi qua ci sono delle versioni stupende qui il modello chiaramente all'interno modelli in metallo in scala 164 con dei packaging davvero favolosi guardate anche il suv dell'aston martin porsche gt3 porsche vintage guardate anche la pop race guardate le scatoline sono bellissime ragazzi mi piacciono tantissimi questo è un targa orange bellissimo all'interno chiaramente c'è il modellino un'altra tarmac molto particolare wire abc trifoglio verde anche questa davvero bellissima insomma c'è un mondo da scoprire anche nelle 1 64 ragazzi buon venerdì a tutti buon video buona visione io vi ringrazio davvero tanto come sempre a tutti voi vi ricordo che noi con il negozio siamo aperti anche online e a proposito andate a scoprire il nostro sito vi lascio tutti i link qui sotto e io vi auguro una buona serata e forza modo sport ciao